Ok, andiamo, puntalo, puntalo, Temporesia Nicola, uno pari, sei pari. 7 a 6, 7 a 6, vai, andiamo, 8 a 6, ha sbagliato il gol, 8 a 6. 9 a 6, 9 a 6, andiamo, 10 a 7, 10 a 9, si, buonanotte, ti tocca, state più indietro. Dai, state più indietro, Nicola, muoviti, Nicola, stai in movimento. No, è finita Massimo. Sì, sì, ma è finita, avanti un altro. Vai, vai, vai. 11 a 8, 11 a 7. No, va tu, io bordo. Manca Lollo dopo anche. Dai, e allora porta l'avanti con la palla.